A Crotone è estremamente probabile che il Pescara avrà di nuovo dei grattacapi in difesa. I problemi alla schiena continuano a tenere fuori Gennaro Scognamiglio che ha svolto terapie e non si è allenato né ieri pomeriggio né questa mattina. Qualche problema anche per Balzano che ieri ha lavorato in gruppo ma oggi è rimasto fuori portando la borsa del ghiaccio sul ginocchio operato, indolenzito. L'unica piccola consolazione è che stamani Ugo Campagnaro si è allenato in gruppo anche se non ha lavorato a pieno regime. La sua settimana è ancora tutta da valutare ma nella migliore delle ipotesi è difficile azzardarne un rientro dal primo minuto, più probabile che parta dalla panchina sperando non abbia ulteriori contrattempi fino a domenica. Con Del Grosso che anche oggi ha lavorato a parte al pari degli infortunati di lungo corso Tuminello e Di Grazia, Le Grottaglie farà ricorso a Edgar e Lisalde per la gara dell'uscita contro il Crotone, un po' per continuità con la gara col Cittadella, un po' per affidarsi ad un mancino naturale, visto che la casella da occupare è quella del centrale di sinistra. Lisalde che ha causato il fallo da rigore, costato la sconfitta venerdì scorso, ma è anche giusto che ora al ragazzo si dia l'opportunità di dimostrare se ha veramente la stoffa dopo le partite con la nazionale under 20 uruguayana e dopo le buone referenze che lo hanno accompagnato. Per Lisalde si tratterebbe della prima volta da titolare in campionato, lui che lo scorso anno con Pilon giocò da titolare solo la gara di Coppa Italia a Verona contro il Chievo, ma poi non è stato mai utilizzato in Serie B, dove nella stagione 2017-2018 aveva collezionato due piccoli spezzoni con Zeman in panchina. Poco felice anche la parentesi di Catanzaro nella prima parte di questa stagione con tre scampoli da soli 37 minuti totali. Le contingenze del momento ora gli impongono di salire di livello, continua a lavorare con grande volontà anche Valery Bojinov, le grottaglie dovrà valutare se è pronto per debuttare dal primo minuto o se partirà dalla panchina. Quel che è certo è che all'uscita le grottaglie non saranno in panchina a causa di una giornata disqualifica. A dirigere la squadra sarà il vice Enrico Battisti. Non è l'unica conseguenza della brutta direzione di Luzzi di Molfetta, visto che il giudice sportivo ha inflitto una ammenda di 4.000 euro con diffida al presidente Daniele Sebastiani per espressioni ingiuriose rivolte all'arbitro al rientro negli spogliatoi, più altri 4.000 euro alla società per responsabilità diretta riferita al comportamento del massimo dirigente. Di contro domenica sera il Pescara si troverà un avversario in piena lotta per il secondo posto ma arrabbiato per la sconfitta con la Juve Stabia che ha permesso a Spezia e Frosinone di guadagnare un più 3 in classifica. Deluso l'attaccante Armenteros per la sconfitta del Menti, benché abbia trovato il primo gol in maglia crotonese, lui che è arrivato in Calabria nel mercato di gennaio dal Benevento. Logicamente le tre punti sono le cose più importanti per me e per la squadra, così continuiamo a lavorare per questo qua perché le partite negli ultimi tre mesi del campionato sono le punte che contano. Così io faccio il mio lavoro come gli altri qua, io come attaccante voglio fare gol sempre per aiutare la squadra e vincere le partite. Questa settimana abbiamo cinque giorni fino alla partita che giochiamo questo fine settimana e niente, concentrati sulla partita. Sappiamo come la Serie B, ogni partita non c'è partite facili in questo campionato, così arriviamo concentrati, ma sappiamo che noi giochiamo a casa, abbiamo bisogno di tutti nello stadio, le tifosi, noi, i giocatori, tutti insieme per vincere questa partita. È una partita troppo importante per noi e a 100% per vincere.